Eeeh what's up a tutti ciurma e benvenuti raggiocherina in questa nuovissima incredibile serie su The Last of Us parte 2 Vi ricordo ragazzi che il vostro sostegno con il like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire Per cui se volete il prossimo episodio per questo primo episodio ragazzi vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 50 like So che ce la possiamo fare ve ne chiedo veramente pochissimi e per voi è soltanto questione di un secondo per cui mi raccomando spolliciate Ebbene dopo avervelo chiesto più e più volte e dopo aver ricevuto veramente tante tante risposte affermative a questa domanda Mi sono decisa a portare senza sorpresa alcuna ovviamente questo secondo capitolo Si tratta ovviamente ragazzi di un sequel al The Last of Us che abbiamo finito di giocare recentemente Suppongo che comunque l'ho conosciato un pochettino tutti perché se no penso che non avrei ricevuto effettivamente così tanta risposta affermativa da parte vostra In ogni caso qualcuno di voi mi aveva anche consigliato magari prima di portare appunto la parte 2 di giocarmi un DLC Non mi ricordo di preciso come si chiami Fatto sta ragazzi che vedevo di sinceramente da un lato non vedevo l'ora comunque di cominciare la parte 2 Quindi non avevo tanta voglia di concentrarmi prima su un DLC E dall'altro lato ragazzi non sono riuscita fino ad ora comunque a recuperarlo questo benedetto DLC Quindi in ogni caso questo non è un no magari quando dovessi finire la parte 2 se riesco a recuperarlo Potremmo tranquillamente comunque giocarlo se ovviamente vorrete guardarlo Quindi lo ripeto di nuova gran voce ragazzi affinché sia chiaro a tutti Se qualcuno ancora si stesse chiedendo ma giocherina tu la parte 2 l'hai già giocata? Ebbene sì ragazzi l'ho giocata infatti io l'ho comprato al lancio L'ho già giocato appunto però una volta sola e al lancio Credo che ormai dall'uscita siano passati tipo 2 o 3 anni se non erro Non so se è uscito nel 2020 o robe simili Quindi vi renderete conto ragazzi che comunque di tempo ne è passato E tra l'altro il periodo in cui l'ho giocato non ero proprio lucidissima mentalmente Causa del lavoro, causa stress, causa tutto Quindi fondamentalmente ragazzi questa avventura non mi è rimasta poi tanto impressa Ergo davvero è come se lo stessi giocando per la prima volta Non vorrei perdere troppo tempo prima di iniziare a giocarlo Ho letto con molto piacere i vostri pareri riguardo appunto il finale di The Last of Us Sapete benissimo cosa ne penso io e quindi quel finale ha ovviamente avuto ragazzi delle conseguenze Su quello che sarà poi stato il rapporto fra Joel ed Ellie Però siccome appunto tipo il 98% dei dettagli non li ricordo Direi di non perdere tempo e di andare ad iniziare una nuova incredibile partita Allora ragazzi per quanto riguarda la difficoltà Ma come sempre sapete che per non avere troppi impedimenti durante la registrazione degli episodi Preferisco scegliere difficoltà un po' minore Quindi in questo caso ragazzi per poterci concentrare maggiormente sulla storia Non dover smadonnare troppo con i nemici Direi che possiamo andare tranquillamente di intermedio Anche se quella scritta le risorse sono limitate Mi lascia un po' perplessa In ogni caso vabbè scegliamo intermedio Darà quel pizzico di pepe in più a questa avventura E andiamo Vi dirò sono molto curiosa comunque di rigiocarlo Perché gli voglio dare un'altra possibilità Non ho avuto un grande parere quando l'ho finito l'unica volta che l'ho giocato Ma secondo me non ero troppo lucida per poterlo comprendere appieno Per questo che ci tenevo comunque a rigiocarlo Ancora meglio ragazzi a rigiocarlo insieme a voi Non so cos'è sorpresa avrei dovuto portarla dalle luci e andarmene. Ma quando attraversi mezzo paese con qualcuno, voleva che la sua immunità non fosse inutile. Forse iniziavo anch'io a credere a una cura. O forse volevo fare il suo bene. Ce l'abbiamo fatta. Abbiamo trovato le luci. E grazie a lei avrebbero potuto creare una cura. Solo che questo... l'avrebbe uccisa. L'ho ucciso. Dottore! Cosa ci fai qui? Non puoi portarla via. È il nostro futuro. Pensa a tutte le vite che salveremo. Santo Dio, Joel. E tu che hai fatto? L'ho salvata. Forza, Nicole. Ti tengo. Ti tengo. Ti tengo. coprite le uscite! Non lasciatelo scappare! Aspetta! Maledizione. Beh... E' un bel casino. E' un bel casino. Ellie cosa sa? Le dissi che avevano fatto degli esami. Le dissi che... che l'immunità era inutile. e lei ti ha creduto. E lei ti ha creduto? Dobbiamo rientrare. Ebbene, ragazzi, è qua. Inizia. La parte 2. Allora, io devo dire che già graficamente... C'è, rega, sta tipo... Non so quanti passi avanti comunque al primo, ma è ovvio. Comunque era un'altra generazione. Stiamo parlando già di PS4. E... Che lavoro magnifico, come sempre. Naughty Dog. Eeeh... Capace di lasciarmi senza parole già dai primi minuti di... Di game. Eeeh... Già stupendo, veramente. Penso di non poter dire altro. Quindi... Joel ha raccontato... La sua versione. A qualcuno. A Tommy. Eeeh... Si rende conto in qualche modo che... Mamma mia, ragazzi. Cioè, guardate qua che bello. Cioè, mi dovete scusare, ma io in casi come questo mi devo fermare un attimo ad ammirare tutto ciò. Cioè, ad ammirare panorami simili. Che meraviglia. Cioè... Joel... Sembrerebbe... Mh... Sapere... Che la scelta che ha fatto... In fondo, in fondo, forse... A Ellie un po' la delusa, ma... Lei non sa, eh... Ovviamente di regola... Che la scelta è stata sua. Però dico, cioè... Mh... Sa che... Come sono andate le cose, un qualcosa che... L'ha ferita. Perché appunto lei sperava di poter... Eeeh... Utilizzare l'umanità, come avevo detto io. Di poter utilizzare la sua immunità, scusatemi, per salvare appunto... Eeeh... L'umanità. Quindi... Pure lui, forse, si sarà sentito un po' diviso. Ma... Come vi ho detto l'ultima volta... Il suo stato d'animo... Comunque a prescindere, ovviamente lo capisco, ragazzi. Si tratta... Cioè, come... Cioè, stiamo parlando praticamente di un padre con la figlia, fondamentalmente. Quindi... Per carità del cielo... Io capisco... Il suo stato d'animo. Capisco che farla sacrificare... Eh... Sarebbe stato un qualcosa di... Troppo devastante per lui. Quindi... Come vi dicevo... Non è che io non capisco il punto di vista di Joel, ragazzi. Però... Eh... Triste ma vero... La scelta, fondamentalmente... Spettava Ellie. Eh... Che lo vogliamo o no, ragazzi. Eh... Perché... Della propria vita... Ognuno è responsabile, insomma. Quindi andiamo un po' più al galoppo. Ormai siamo arrivati. Wow... 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 Mamma mia, ragazzi. Mamma mia! Che bello tutto ciò. Troppo bello. Ci siamo. Possiamo andare. Ed eccoci qua. Vieni. Tranquillo. Faccio io. Puoi andare. Sicuro? Sì. Ok. Riguardo al discorso di prima... Io non avrei fatto diversamente. me lo porterò nella tomba se devo. Che dolce, Tommy. Ci vediamo, Tommy. Comunque ha capito che lui... Raga, lui aveva bisogno di dirlo a qualcuno. Ovviamente. perché... Comunque sono cose che ti porti dietro e... Lui è adorabile perché dice ovviamente comunque resterà un segreto, no? Eh... Permesso. Come ogni adolescente, ragazzi, con le cuffie nelle orecchie. Gesù. Mi hai fatto venire un colpo. Ho provato a bussare ma... Ehi. Ehi. Che vuoi, Joel? Passavo. Gli altri... sai, tutti quanti parlano molto bene di te, di... di quanto ti... rendi utile. bene. Sì. L'altro giorno ero a cavallo con Tommy e... mi ha... detto una varzelletta e ti ho pensata. Era... l'ho dimenticata. L'ho dimenticata. Era sugli orologi e... i colmotti. Joel, scusa. È tardi e devo... svegliarmi tra poche ore. Sì, sì, hai ragione. Ora mi tolgo dai piedi. Volevo solamente... Volevo farti vedere una cosa. Dammi solo... un secondo. Un tè tenero. È adorabile. Che cos'è? Beh... Ti presento un'amica, si chiama... chitarra. Piacere. Vuoi sentirla? Ok. Ok. Promettimi... di non ridere. Non riderò. Promesso. Mi voglio fidare. Ok. Usare l per cambiare accordo. E scurri per suonare. Che bello! Mi voglio fidare. Ok. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501